L'appuntamento mattiniero al Tupparello era stato fissato, come ogni sabato, ma questa volta i giocatori della Scileale sono dovuti tornare indietro, verso casa. Non ci sarà nessuna rifinitura, presi l'accusa, e chissà se questo imprevisto potrà minimamente incidere sull'andamento della gara vera e propria. Mister Salvoricca ha la domanda lecita, vi adatterete in qualche modo all'avversario? Ha risposto no. L'intelaiatura dei Granata sarà la solita, nessun cambio di modulo in programma, nessuna marcatura uomo prevista su Mascara. In difesa ci sarà spazio per la coppia Ranerico-Cuzza, essendo Carmelo Ricca squalificato. Sardo indisponibile, quindi apertissimo il ballottaggio tra Amore, Giulio e Di Nicolò, in ballo per due posti. Qualcosa potrebbe cambiare, ha aggiunto inoltre l'allenatore, che stia pensando di accantonare, anche se momentaneamente, Martinez, preferendogli Maggioloti, attaccante più rapido e più adatto ad un eventuale assetto da trasferta. Il reparto di centrocampo ha ormai la sua quadratura ed è quindi più difficile che venga ritoccato. È rimasto poco tempo per pensare, il big match dista soltanto 25 ore circa. Grazie a tutti.